Come va ragazzi? Claudio e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova serie che come potete leggere dal titolo è appunto lo Staff Series che avevo in mente anche di portarlo sul canale perché veramente come serie mi piace un botto però vi devo chiedere anche una cortesia ovvero di lasciare un like so che per voi è poco però per me significa veramente tanto perché significa che la serie vi piace e che anche se vedo questo supporto di continuarla a portare sul canale inoltre ho voluto anche personalizzare questa nuova serie portando anche qualche clip di pvp oltre ai soliti controlli quindi bando alle ciance e iniziamo subito il video ok adesso controlleremo questo Kiro questo Kiro qua perché è stato segnalato abbiamo visto anche con la console quanti cps faceva ne faceva più o meno 15-16 cps che è un numero molto elevato ok faccio il controllo a Kiro dammi tuo team weaver controllo hack hai 30 secondi secondi slog uguale no voglio lo spommo ho completamente no questo qua lo banno direttamente io star ma sta cazzeggiando sta noi dove non lo banno manco skype muore da la banno direttamente facciamo per due giorni dai su days rifiuto rifiuto controllo anti anti cheat vediamo cosa ha scritto gg prossimo ok vediamo questo the gorux vediamo le hit poca speed poco bellissimo dai enjoy the ban ok temp ban the gorux dei gorux si chiamavano facciamo per 14 giorni kill aura eppure speed kill aspetta kill kill laura barra speed tra parentesi stas siris ok edelio enjoy the ban ok ok perfetto adesso controlleremo questo stefano 44 perchè ha fatto veramente delle hit stranissime tipo che ittava da 6-7 blocchi e può essere che ha un auto clicker perchè ittava così cioè ittava da parecchi blocchi quindi era molto anomalo quindi adesso chiudiamo il controllo che facciamolo anche aggiornare su ts dopo che ci siamo eccolo qua ecco oi com'è che ittava da così tanti blocchi co cosa come i speed cosa ok intanto di controllo stesso noti in vivac o e scaricolo no cosa con il test milagro il tutto il fare il paragone con non qu lectures credere stesso solo ciclasto loится b allora vediamo dove la mia base noi no 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 ok Allora dovresti fare Esc Options Snooper settings Scorri scorri Ok Andresti nella cartella per cento per cento? Versions Oh 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 Quante ha agarca Vai nella 1-8-0 Vai poi 1 8 no per di peso la proprietà per vedere il peso vediamo il confronto con la allora saldere il titolo con la mia la tua pesa la tua pesa uh veramente leggera se non hai costato qualcosa dentro download chiudi sta finestra visualizza esegui si rivaldo a riscaricare a riscaricare perchè si perchè comunque era palese che utilizzava ghost client perchè la sua cartella pesava tantissimo quindi lo bagniamo temp ban cosa si chiamava stefano 4 4 4 facciamo per anzi no facciamo un mont perchè è stato veramente scorretto che che Grazie a tutti 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 Grazie a tutti